ciao ragazzi buongiorno da max come vi avevo promesso nel video precedente oggi vedremo come animare un elemento html lungo un percorso di animazione i percorsi di animazione o motion path ci permettono di spostare un elemento lungo un tracciato ben definito quindi durante questo video vedremo cosa sono i motion path come si struttura un percorso di animazione quali strumenti utilizzare per disegnarlo in modo semplice e rapido e infine come sempre nel video di domani applicheremo praticamente il percorso di animazione ad un nostro progetto web abbiamo visto come creare un'animazione con key frames che ci permette di ruotare modificare il colore di sfondo la forma combinare più animazioni se vogliamo e spostare un elemento da un punto a ad un punto b soffermiamoci proprio sul movimento di un elemento che sostanzialmente va sempre da un punto di partenza a uno di arrivo il limite è che si sposta sempre su linee rette se volessimo muoverlo lungo una curva il massimo che possiamo fare utilizzando soltanto le animazioni key frames è questo o qualcosa di simile possiamo cioè simulare un movimento che si avvicina lontanamente ad una curva diciamo che è più vicino ad un'ondulazione questo effetto lo possiamo ottenere inserendo la pallina all'interno di un container e assegnando l'animazione di rotazione al container e non alla pallina vedete ho fatto in modo che il container appaia durante l'animazione per renderci conto meglio dell'effetto utilizzando invece il modulo motion path possiamo muovere l'oggetto lungo un percorso che può avere la forma che vogliamo in quanto saremo noi a disegnarlo vedete la pallina si muove lungo un tracciato ben definito ve lo mostro vediamo subito come realizzare un percorso di movimento e come fare in modo che il nostro elemento html lo segua innanzitutto la pallina è un semplice div html un quadrato di 60 per 60 all'interno del quale grazie alle clip art abbiamo ritagliato l'oggetto circolare cioè la pallina delle clip art ne abbiamo parlato in un video precedente comunque vi mostro un attimo il modo in cui ho ricavato il codice per ritagliare la pallina del nostro quadrato di 60 pixel il modo più semplice è utilizzare questa web app di bennett filly che ci permette di ricavare le clip art ecco il link innanzitutto impostiamo le dimensioni del contenitore al quale vogliamo applicare il percorso di ritaglio o clip art cioè il nostro div 60 per 60 l'applicazione non ci permette di scendere al di sotto di un contenitore di 100 per 100 pixel comunque è uguale ok a questo punto scegliamo circle adesso dobbiamo solo copiare il codice sotto e incollarlo all'interno della nostra regola in css ed ecco la nostra pallina possiamo ridimensionarla agendosi valori percentuali ma va bene anche così volendo possiamo anche scegliere un'altra forma ad esempio una freccia e incollare nuovamente il codice prodotto vedete è un'applicazione davvero utile possiamo anche decidere di trasformare ritaglio leggermente o creare qualcosa di completamente diverso partendo da una delle figure proposte ok chiudiamo il discorso sulle clip art e vediamo come realizzare invece il percorso di animazione per prima cosa dobbiamo disegnarlo vi risparmio la sintassi nel dettaglio e chiediamo aiuto anche stavolta ad una web app che ci permetterà di disegnarlo in modo semplice e veloce ecco il link creiamo un account in modo del tutto gratuito io l'ho già creato quindi accedo come potete vedere abbiamo diversi strumenti a disposizione per disegnare il nostro percorso spline rettangoli elissi forme libere scelgo proprio quest'ultimo che mi permette di ottenere qualsiasi forma voglia iniziamo a disegnare il nostro percorso appena siamo soddisfatti clicchiamo su edit per vedere i punti che lo compongono e possiamo spostarli cancellarli o cliccando sul punto posso gestire gli angoli di intersezione e creare delle curve terminato evidenziamo la forma con la freccia in alto clicchiamo su export tipo di file scegliamo html poi l'area che vogliamo esportare se tutta la finestra o soltanto la selezione clicchiamo su selection volendo possiamo vedere il preview e poi su export scaricato il file lo apriamo su atom e copiamo e incolliamo all'interno dei file html il codice svg se vogliamo visualizzare il percorso salviamo vedete adesso la freccia segue il nostro percorso visualizziamo il percorso per farlo portiamoci sul file del percorso dove c'è il codice svg copiamo tutto l'svg passiamo al nostro index html e incolliamo a questo punto dobbiamo apportare alcune modifiche cancelliamo il valore rgb di fill e inseriamo transparent a meno che non state visualizzando un disegno e volete inserire un altro colore di sfondo sempre se già durante la progettazione non l'avete realizzato come volevate adesso andiamo a sistemare alcuni valori per far combaciare per bene l'svg e il movimento che segue il percorso iniziamo con i valori di larghezza e altezza dell'svg e gli diamo gli stessi del contenitore che lo contiene nel mio caso 600 per 400 passiamo al css modifichiamo il valore di top e left dell'elemento che si muove fino a raggiungere l'effetto voluto bene il nostro elemento html segue perfettamente il percorso che ho disegnato quindi ricapitolando vediamo come abbiamo fatto ad ottenere l'effetto dobbiamo inserire all'interno della regola di stile che gestisce il nostro elemento html che vogliamo animare la proprietà offset path e come valore path parentesi tonde virgolette e dentro le virgolette il percorso disegnato come abbiamo appena visto fatto questo richiamiamo l'animazione con animation nome animazione io ho dato move e andiamo a crearla keyframes move al frame di partenza 0% inseriamo offset distance 0% e al frame di fine animazione 100% offset distance 100% dopodiché se abbiamo la necessità di visualizzare il percorso inseriamo l'svg in html e lo andiamo a sistemare con top e left un'altra cosa importante come potete vedere in html sia l'elemento animato che il suo percorso svg li ho inseriti all'interno di un contenitore che ha le stesse dimensioni del percorso cioè 600 pixel in larghezza e 400 in altezza bene ragazzi in questo video abbiamo visto come disegnare con il minimo sforzo un percorso di animazione e poi grazie al modulo css motion path come fare in modo che un elemento html si muova percorrendo il disegno che abbiamo realizzato nel prossimo video continueremo il discorso sulle motion path e vedremo come applicarlo praticamente ad un nostro progetto web quindi non vi resta che seguirmi se il video vi è piaciuto mettete un bel like e se non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale ciao a domani